Carino. Caricato subito, mi ha perso pochissimo tempo. Sì sì, sono aumentati molto veloce i tempi di caricamento. Oh, che bello. Ho visto che mi hanno regalato la sub a te. Aspetta, aspetta. Sì, è vero. Robo Lox, grazie. Ti consiglio... Dimmi, dimmi. Ti consiglio di... è meglio se farmi tu, perché con la W pushi molto di più la wave. Va bene. Perché se uso la E sulla W non posso poccare. Ok, ok. E tanto ti aiuto a pushare io. Vabbè, starto subito W per farmarlo. Oppure in chiodo. Cosa preferisci? Vuoi fare un'azione all'uno? Non che facciamo tanto. Buon, andiamo a dare un po' di fastidio. Io ho Manaflow da staccare, non so te. Va bene, va bene. Dai, starto DQ e poi mi aiuto a fermare la prima wave. Vediamo se c'è qualcuno che ci segue. No. Dai fastidio a qualcuno, tu. Eh, vorrei dare qualcuno. Eccolo il DPS, eccolo qua. Un po' di Dark Harvest? No. Ho preparato troppo. Ho preparato un po' di danno. Oddio, quanto è veloce questo. Va bene, va bene. Niente. Talon sta là, fermo immobile a... Non vogliono. Sto tornando. Devo andare back io. Ok. De, 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 de. Ma Talon ci aspetta a noi. Ok, ecco. Vuoi un gatto? Vuoi il cazzo? Attenzione. Amma mia. Ma perché sono così rudi? Che cattivi. Ecco qua il mio contributo Talon. E niente ragazzi, come facciamo? Ma chi è che è la schietta sta cosa? Vuoi il cazzo per caso? Eh, vedi, si sono triggerati con l'invade. Non gli è piaciuto. Hop è già morto. I'm here to learn Italian. Nice. We will learn to you. But now I'm in due with another streamer. So I can't talk to you a lot. Diciamo che se ci raggiunge Warwick è lui che abusa noi. Per noi faremo in modo che non accada. Beh, diciamo che io lo inchiodo. Ok, ora... No, non lo do più. Questo qualche... Va bene, ce l'ho. Mi preparo una Q. Ecco qua un po' di DPS. Anche loro ce lo fanno. Va bene. Vabbè, intanto Gin ha meno di metà vita. Dark Harvest Presi. No, cazzo. Funzione. Oddio. C'hai deal, sì. C'ho un deal. C'ho un deal. Ok. Perché io sono partito senza vita. Non avevo pozione. Maggia. No, non mi salto. Va bene, va bene, va bene. Dobbiamo stare attenti a Warwick. Qua secondo me viene a darci il cazzo, come ci ha promesso. Adesso vediamo se ce lo dà a lui. E glielo diamo noi. Pensavo che facessi soltanto... Eh, pensavo che facessi soltanto... E l'ho fatto in tempo l'auto... Mamma mia, vabbè. L'autoattacco è partito troppo veloce. Eh, Warwick è molto veloce con quella cazzo di Q. Dopo non avevo nemmeno il Black Shield, se no ti parava un po' di danno. Nessione. Beh, c'è chi va peggio. Top è 3-0 la Queen. Ma? Pochino tanto. Sì. Ione è soft inting, non ho hard inting. Qualcuno è riuscito a riscattare la ruota prende. What can I do? Go FF. Vado back. Ah, go FF. Così già il team non trasta niente. Che fortuna! Il dado verrà tirato per me stasera. Ok. Arrivo. Bene. E l'iel mi salvavo il fatto che volevo baitarlo, solo che l'ho fatto la cui l'autoattacco praticamente istantaneamente, perché ha preso tutta l'attac speed dalla passiva e... Eh, ci sta il bait perché infatti se finiva sotto torre, inchiodato, prendeva lui il cazzo. Bene. Flash EAL partito qua. Non si sa di chi Lial ma è partito. Adesso la mia W ancora non fa tanto danno perché sto maxando la Q. Però, tra poco... Lo faremo. Altro Dark Harvest, siamo già tre. Vado di lì, Henry, così per avere più DPS possibile. Sembra una buona idea, sì. Ok. Ciao, foche! 13 mesi grazie, caro! Bentornato! Altro I al partito. Adesso non ce l'hanno più. Ah, ma cazzo non ho preso una buccia io. Grazie mille, foche. Forse è mio senato, beh, che la prendo adesso. Raggi, probabilmente stasera. Stiamo facendo una morte di DPS. Ma io voglio andare di buccia. In realtà non mi serve. Penso di avere abbastanza mana tutto sommato. Poi, dopo continuo la Z-Penta Challenge. Ho la maschera pure io. Rick, lo sentite bene? Come me? Meno di me? Più di me? Sì, facciamo quella. Poi farò l'altra maschera anche. Oh, cazzo! È partito un replay, ragazzi! Scusate, è sbagliato! Ok. Purtroppo ho il tasto di permutarmi su Discord. Ecco, quando Zina fa la passia puoi profittarne, secondo me, per provare a prenderlo. Bene, è replay random, molto divertente. Bello! Donna! C'è Warwick! Ok. Forse Warwick non c'è, ti ha messo semplicemente... Cioè, sei sotto il 50%. Lo prendo di nuovo. Ok. Ho la qui in tre secondi. Due. Flash! Va bene. Warwick. Vabbè, adesso si becca un po' di DPS. Eccolo qua. Ecco qua. Maravissimo. Due. Eh, sai cazzo, l'ha preso lui! Mmm, va bene. Potevo flashare, ma... Vabbè, lo stesso. Ma stay on base! Ah, proprio così. Prima morte che fa, si arresa, questa. Non hanno voglia di combattere. Dobbiamo dargli più morale noi. Dico... Dico che ho lo zio che lavora per Riot. Eh, sì. E fa tutto a noi. Vabbè, allora faremo noi. Andiamo qua. Avete beccato i The Ranker, beh. È tornato! Cosa fa? Michele, ha ulti tu. Sì. Solo che c'era un mino lì davanti. Che fa questo? È che il leader ha... No, è italiano... Impossibile. Gli italiani non fanno queste cose. Scarsi. Vai! Oh! Muore. Morto nel DPS. Benissimo, benissimo. Eh, facciamo noi, vedi? Arrivederci. Stay under tower, don't push. No, dai, diciamogli queste cose belle. Diciamogli le cose belle, così cambia tutto. Io così quasi vado di Ludens, sai? Eh, anche io volevo fare Ludens, però non ne sarebbe DPS. Non è vero DPS. È contro di loro, che sono tutti squishy, a parte... Vabbè, Warwick può dare un po' tank e Luden è buonissimo. Anche perché non buildano HP, e quindi le endri fa meno. Se vogliamo shottare, meglio Luden. Ah, sono sicuro che... Alla fin dei conti, verremo ripagati con il DPS. È impossibile che non lo stia facendo apposta, questo. Secondo me... E comunque Luden è stato cambiato anche per i DPS, eh. Per esempio, che diminuisce il cooldown se fai danno con le abilità. Sì, però non sarebbe vero DPS. Eh, ok, va bene. Se vogliamo immagare qualcuno qua, facciamo strage. Vogliamo? C'è la ultimate. Oh, peccato. Allora il resto inizia a maxare W... Sì? ...al prossimo livello. Ok Ora dovremmo fare più danno Allora sappi che secondo me Warwick è incazzato E verrà molto spesso bot Ah beh finora è venuto per fidarci Solo una volta gli è andata bene Ok adesso è l'Herald quindi non viene Questi qua non si sono mica accorti che siamo qui Penso di sì Eh sì ma non ci vedevano Guarda come è posizionato male Mi slovassi così tanto Eh si è stornato Ah forse è un po' esagerato Ho l'Ial vieni qua Serve Non ha già Soprì di tre Ial Eh non ho visto ha già la ulti Quello ma ha expato Più di Gine dire che lui è lui che Dall'ex pagino non il contrario Molto arrabbiato Ione che lo stanno flammando Ho visto Ok ok Oh non han più nulla Cioè è impossibile Hanno usato tutte le summon Hanno usato tutte e due i flash Prima Zilin il flash pure lui E gli Ial E gli Ial e tutto quanto Non hanno niente Mid morto il nostro jungler Che ha gancato E c'è un po' di plate E niente continua a morire top Pop morto di no Dai Qualcuno gli fa un check dello PGG Così per Allora hanno detto che va 060301 Sicuro di non voler andare di Luden Con tutto sto team da carriere Fai così Tu vai di Se vuoi andare di Luden Facciamo 1 e 1 piuttosto Dai facciamo 1 e 1 I Liendri non staccano Se ne abbiamo due mi sa Vero Non lo so Sa di no Non lo so Qualcuno lo sa in chat Ciao Killsan Ciao Cosmic Ciao a tutti quanti Sottile dei corpi celesti Ciao Andrea Super Buonasera Sdergot Ciao cari Stata chat Come va Ti vede energico e motivatissimo Sì 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 Siamo facendo una botta Siamo contro della roba fortissima In realtà molto rilassato Siamo facendo una cena fuori Che top sta trovando Ciao Kaiolas Questa giustificazione Dei perdenti Eh sì Queen Riesce a bloccarla Vi faccio Vediamo un po' Ok L'ho ultato Per prendere io la kill Se no la prendeva sto Ione Non è Benissimo Benissimo Ok Ulti andata Buono Let's go Hai visto Queen Non è servita a niente Contro di noi Questo qua Che cazzo E' impossibile Che non lo faccia apposta Dai Troppo scarso Troppo Bei danni Magari Queen Che la sta smarfando Ma ha solo 8 farm Più di lui Quindi Non capisco No ma questa non è sotto torre Ma che cazzo Erebbe morta Ok Vai Talon Ok no Non andare più E quindi nuovo eh Attenzione Sì sì Stop ping E poi pinga lui E fantastici Posso flashare Sono in troppi Non ho la ultima età vita Guarda il drago Bello bello Facciamo No no Io mi scopo quello Ottimo Come si ha resistiti Porca puttana Ottima resistenza Oddio Warwick Warwick si fa pure aria Warwick corre Cazzo gli frega a lui Lui è Warwick Warwick è l'italiano pazzo Va bene Crazy Italian No Darkfire Preferisco fare Luden Per fare più danno possibile No vado di Everfrost io Eric fa di Everfrost Porca troia Questo qui altro che Io vado di questo Perché ragazzi Luden Dà Penetrazione magica E' il supporto di DPS E' sinceramente Contro Nuova tattica Contra Queen Che è Full danno E ha poche resistenze Preferisco Farle più danno possibile Alla fine vince Chi Muore Chi uccide l'altro Prima capitano Con Luden La posso stunnare Ma non ho visto Ione Però poi Lei continua a farmi danno Non farla apposta E invece in questo modo Si è lasciato prima e meglio Sì dovevo Mi pantinano Così veloce Ho preso Ok Allora Aspetta Dai Buono 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 Due presi A far tutto a noi Qui come al solito 080 Omg Prefer play 4v5 Non give 9 kills Vabbè Questo è vero Così è come essere 4v6 L'italiano E' proprio lui Quello che ci dà il cazzo Eccolo E' lui Cosa fa? Un alleato E' stato ucciso Ma Eccolo lì Oddio C'è altra gente Lui inizanto ha subito un bel po' di danno Si è preso il DPS intero Il DPS 800 gold Aia Mamma mia Queen kill Però Queen tutto quel che vuoi Aveva avuta botte Le morte istantaneamente Si è fatto Ci pensa due volte Non torna più Vediamo se tornerà Sti fiori qua eh Guardalo Aaaaaa Ziland lì Cosa vuole fare? Chi c'è qua? Eh? Ah no Pure E' l'italiano Ma Vabbè Va bene Attenzione Mi sa che arriva Queen comunque Non la vedo più in matta What? Ma Cosa? Bellissimo Questo Warwick Ma comunque Meno male Questo soggetto Vabbè ma tanto è 0-10 Cioè Prendo da più soldi Quei cose Ecco La la era gustosa Ma è troppo lontana Che danni Madonna I dark harvest Sono poppati Ma io guarda C'ho 19 stack Cioè Voglio dire Butta le via Vabbè Quella è entrata Nel mio dark harvest Mamma mia Che danni Che tu li facciamo Ok Andiamo back Tanto adesso Rivera work Tra un secondo Preparati con la Q Un gatto ma riceverai il mio cazzo Oh Cazzo è andato back La killi però Eh no Devo mettergli night Pensavo ci fossi anche tu Pensavo per flashare via Vabbè Buono buono lo stesso Ma se dai Un gatto ma riceverai il mio cazzo C'è ma ce l'ha proprio Con dare il cazzo A questo tizio Mi piace proprio Immobility Così arriva prima Elena a morire Giustamente Qua l'unico uccello Che stiamo ricevendo È quello di Queen Ma adesso glielo diamo a noi Evidentemente Vuol dare il cazzo a noi Perché Non è capace Ad altre entità Attenzione pure L'herald di Queen Incazzatissima sta Dopo ti scopo per bene Madonna Affanculo Sparite Mi sa che è una dichiarazione d'amore questa Lo riporto per Cut calling Non ci sono più gentili Dopo ti scopo per me Di red Eccolo lì Guarda Eccolo È un po' slow water Il ragazzo Molto bene Scusate Non ho resistito È bella ulti Eh sì Non ho resistito ragazzi Dovevo scriverlo Eeeh Eeeh Oddio Cioè è attaccata la ward Perfetto No S'è rifullata Eh purtroppo non ho niente Ok È la Q Eh cazzo È troppo veloce Cosa è Salvi 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 No Ho fatto la mossa dell'iron Spara Muoiono di DPS Guarda Guarda lì Oh Boom Sì cazzo Bodonne No 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 Le rocce Ecco tieni GG cazzo OMG Tis move Ari è molto contento Sono salvato È che lei slugò tanto Meno male Mamma mia ragazzi Ho paura della scopata di Warwick Per quello Stavo scappando Che roba Che roba State attenti E al cazzo di Warwick Che quando me l'aspettate Mi ve lo infine Mamma mia Così non ero prima Comunque Prendendo Ah chi sai già Che titoli e copertina Mettere Per questo bellissimo Ancaz Quando la servono Su un piatto argento Vabbè top Sta morendo Giustamente Sì 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 È la prima partita Della serata Comunque è chiaro Che lo faccio a posto Direi Comunque Ione 0-12 Continua così A intare Molto bene 0-12-0 Questo non è soft Inting Questo è Inting totale Proprio Eh ma Magari lui non sa Poverino Qual è il limite Eh capisci Ah Oh Molto bene Molto bene Molto bene Cosa fanno questi Ci hanno visto tutto Tiffato Vai Talon Vai Talon È lui Scappo scappo È andato sul DPS Preso Molto bene Sì dai Io ne lo sto guardando Ho appena iniziato a giocare Sto prima Sto giocando con l'account Di un amico Boh Non lo so Lo ce l'ho visto Ha tirato lei È andata Alla ieri È cliccare Finché non è morto Non tornava Nemmeno indietro Non conosce bene Il limite Evidentemente Non sa bene Come funziona Il champ E vabbè Proprio il champ Ognuno ha le sue Limitazioni Vin continua a pushare Top Noi facciamo l'arm Riuscite da una bella Q Preso Ah ecco qua Il DPS Buono Buono Oh non l'ho preso Che palle Non è morto Zilean Deve aver tirato Neil No no G non è morto No io ho tirato E ulti su Zilean Un HP Perché sta arrivando Qui in su di me Ma questo presentimento Ok non c'è Ho preso mille gold Purtroppo Da me Cosa buildiamo Sto pensando Alla zona Serve il drake adesso Andiamo dal drake Stai presto Grazie Facciamo una fixata Buonasera Io soprattutto Con la ulti Lo vuoi il mio Cazzetto fresco Perché è fresco Non lo so Ma è un disco rotto Dice sempre le stesse cose Ma secondo me ci conosce Sta facendo apposta Può essere Può essere Per il content È troppo bene Presa Mi prende la Q Di Morgana Ma qui Può killare Io neanche 56 volte Ma Sì Ma in realtà Sono 21 kill Che però Non so quanto valgano Perché Se ne avesse la metà Sì esatto Eh vabbè Ma infatti Per derasto game Continua così E Nari voleva sorrendare Ma 70 minion Al minuto 24 Cioè Capisco perché Oh 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 Sì Beh sono partito Un po' di Summoner Dai Mamma mia Amori che non ce la può fare Poverete Sì Quella Non è la nostra bomba Purtroppo Buono buono Brava Ari Hai visto Ha preso coraggio Eh sì Si è vendicata Che bello Hai visto Il rework Che vogliono fare Adari No Ho visto solo Che la vogliono Reworkare Da quello che ho capito Praticamente La sua ulti Guadagna una stacca Ogni volta che fa Kill o assist Una roba del genere Non so se sia Cos'è corretto Ma questo è quello Che ho visto da un video Quindi Poi devo sapere Però la vedevo Uncare tipo Tanta volte Anche l'Horizon è forti Sono tanti oggetti Bello l'Horizon C'è lei l'altra maschera? No Ma io mi faccio la maschera Allora Faccio il demonic Poi al massimo Vendo l'oggetto da support Mi faccio la zonia Ottimo Questa è morta di QV E basta Fu completo Eh vabbè C'è una build che non è Stanno facendo a Miss Forza Un full AP Giusto? Eh sì Dovemmo fare la Dovemmo fare una botta del DPS Quindi full Oddio no Colliandry o roba del genere Però Abbiamo contro Della gente molto squishy E cattiva Quindi Sì Lei è tardi Ma Mi avrebbe shattato comunque Non avevo la Q Vabbè Facciamo così Un nemico è stato ucciso Purtroppo con sta build Non faccio molto danno Però Un alleato è stato ucciso 015 dai C'è qualcuno in chat Che ha usato dire Ma dai è solo scarso Nel senso Sì Esageriamo Diciamo che uno scarso Non fa così comunque Cioè Non si lancia Cento volte a morire Se tu sei scarso O ci sono persone che stanno facendo La 20 morti challenge Nel loro team Magari Queen sta facendo La 20 morti challenge È per questo L'è andato proprio bene Trovarsi uno così Buono Buono No comunque Cioè se tu sei scarso Comunque sia Non vuoi morire così tanto Cioè vuoi giocare Il game Lui l'ha passato tutto Magari stai con gli alleati Cioè lui tira dritto Più in top E anche da qualcuno Ingaggia Muore di continuo Cioè Fa un po' esagerato ragazzi Beate pietà Com'è chi si chiama warwick Wrath of god Of good Ma no Come l'ho messato Aspettatemi che arrivo Poi bisogna del 16 Così con la ulti Faccio un bel po' di casino Che fa Talon Mazzito Ma Ok Anche Talon Mezzo matto Secondo me sono Per me Di studio Comunque fan post La prima kill Di Ione Quasi Beccato Ho fatto un po' Di piazza pulita Qui Direi che ci voleva Grazie Grazie 32 stacchi Dark harvest Oh guarda dietro C'è Queen Ma dove va? Vabbè Contenta lei Vuole prendere da dietro Perché farà molto Ma dove Mi dobbiamo Che Queen Adesso lo chiede Thanks Dai lo fa apposta È un meme questo È consapevole Di cosa sta facendo Vorrei tanto Che giocassi Questo campione Vincere la push Però Ne ho back Ne ho back No C'è Ione Che difende Guarda Mamma mia Allora siamo sicuri Allora 30 secondi al drago Io vado lì È il quarto drago Questo è molto importante Ciao cugino Scusa il ritardo Ho una proposta Che ne dici Di adottarmi Insieme a money No Non adotto O bot Ho qui iniziato A splittare Non mi piace Bene Prendiamoci Sto drago Ok Ok Benissimo Cazzo Non c'era di pochissimo Il reto Buono Warwick era ancora lì Purtroppo non abbiamo Un jungler Oddio Non proprio quello che volevo Ma Ti sto facendo il drago Qui sta pushando bot Guarda Ione Vabbè vuole vincere Dai Sì Beh effettivamente Però bot Se no vado a difendere io La possiamo chiudere Chiudiamo Io però Ok Sto andando Sì Guarda sta pushando Tutte le lane Per non farci arrivare i minion Mamma mia Però non ce la farà Perché ormai abbiamo finito Penso stia pushando E basta Onestamente Senza No voleva toglierci i minion Infatti ha tolto tutti Tranne il super minion Però Vabbè Allora Non è andata male Sto andando qua Sto andando qua Sto andando Sto andando Vabbè Sì dai Secondo me sono in due Stanno Sto andando Questi Ne sono abbastanza Convinto Ora Aspetta Preparo una Q Che è qua Il primo che becchi Vai Oh porca Ho sbagliato Ma 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 ho ucciso col flash Vabbè 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 L'obiettivo era un altro Ma Guardi Lo pgg Ho già capito Mmm Non sono per me I giro Sarà Un coincidenza Molto Strano Che sta arrivando Queen Buono Buonissimo Buonissimo No No Meno buono Porca Doia Adesso il DPS Uno l'hai preso di Q Com'è possibile Eh Non hai Il C mentre Palla U La prima kill di Ione Le doppia kill di Ione Oddio Attenzione Mamma mia Oddio 2.17 Basta Sei salvato Simo Mi vuoi leccare L'alluce anche stasera Va bene Giorno 2 Arriviamo al giorno 10 E ci facciamo un pensierino Inizio a dirti un po' Le dimensioni dell'alluce E in che punto Mi preferisco essere leccato E tutto Va benissimo Christian Buonasera Grazie anche a te del Prime Ben arrivato caro Che bello Grazie mille il supporto Scusa Ti ho dato una proposta Ok Penettore no Non possiamo adottarti Ci sono altre persone in fila Comunque Allora 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 Cosa potrei comprare Stavo pensando alla Boyz Per far più danno No Visto che Queen ha preso Magic Rays Si è bloccata la W Vabbè Proprio qui I miei danni sono aumentati di brutto Quelli che le faccio Nello stesso lasso di tempo Eh perché lei c'ha questo Che 40 di Magic Rays Eh però la mia ultima Comunque ha danno fisico E che c'ha anche la GA C'ha anche la GA C'ha tutto Allora Comunque il loro nexo Si è scoperto Se facciamo l'inibitore Mid Praticamente vinciamo Bot non lo so Bot c'è Ione E riesce a dare una mano Ok Sto pusciando la top Piossari la prende E ce la facciamo Oddio Troppa gente Scherzava Ok sono in tantissime Però io sto pusciando top Tra poco faccio un altro Inibitore E' una mano Ione è partito E' lui Buono Noi qua abbiamo fatto doppia Benissimo Anche qua Perfetto Push 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 Ma sarebbe buono Fare l'inibitore C'è qui in viva Però Ok Perfino vuori che ha fatto 17 morti Challenge 20 morti Ma sono tutti fissati Con queste morti Presa Ciao Ecco qua Arina qui Aspetta vedi Zilan sei pronto Si lo vedo Tanto tiriamo un po' di danno qua Hai by hand misfortune Vai Eccolo lì Buono buono Lecca il frisello Che è più bello Dai si ci conosce Non può essere serio Una persona così Va bene va bene Bello bravo Il signor Warwick Tra Warwick Ione Tutte queste robe qua È stata molto bella Questa partita Si si Bah Non so cosa dire Guarda lo pgg di sta gente Ma non so come commentare Eh non lo so Bel grafico dei danni Abbiamo giocato in tre Sta partita È bronzo 4 comunque Ione Ma la partita di prima Comunque ha fatto 6-4 Ma lui è abituato a fare così Guarda qua 3-13 4-13 con Ione 6-14 Guarda non so come commentare Non so veramente cosa dire Lui fa così Schifo Sta qui invece Anche il game di prima 30 kill Vinta però This game guys San manco lei come ha vinto Ari 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 è quello che ha fatto Meno da anni Nel nostro team Meno di Ione Guarda che Ione ha picchiato E nonostante tutto Vediamo questo Warwick Che magari Ferro 2 Ferro 2 No vabbè E niente No qui non è Smurf Gioca soltanto tanto Queen E basta You made me crazy Mamma mia L'abbiamo fatta impazzire Questa Però dai faccio due Spacchettamenti Faccio due spacchettamenti La buonanotte Ok Allora ci sentiamo Ciao Ricky Buon proseguimento Ciao ciao Ricky